Buonasera a tutti, purtroppo non possiamo essere lì con voi a cena questa sera per degli impegni precedenti. In particolare sarei dovuto venire solo io perché gli altri due intanto non apprezzano la cucina, hanno il palato foderato di lamiera e poi rubano le posate. Quindi sarei dovuto venire solo io ma ahimè ho un sacco di cose da fare. Io sono contento insieme ai miei soci di aver partecipato al sostegno di questo ospedale meraviglioso che è il Monzino cardiologico e noi di aver aiutato voi ma diciamo che soprattutto l'ospedale Monzino si è preso cura dei nostri cuori, sono cuori particolari, cuori di nero azzurri e dopo che siamo stati curati da voi ne siamo usciti benissimo e i risultati parlano chiaro, è chiaro che adesso voi dovreste occuparvi di una serie di malati potenziali dal cuore rosso nero e lì so che dovrete tirar fuori il meglio di voi stessi. Un saluto all'amico Abba Tantuono che monitoratelo perché non sono periodi meravigliosi. In ogni caso tanti auguri, buone feste e che la fortuna vi perseguiti, un po' meno il Milan.